Giulia Delellis Giulia Delellis, la missione, sono ingrassata, non riesco a perdere peso, Andrea commenta Giulia Delellis, sono ingrassata, non riesco a perdere peso, Andrea Damante commenta Diversi curiosi e fan di Giulia Delellis hanno notato che la loro beniamina ha messo su qualche chiletto durante e dopo l'avventura al grande fratello Vip. Dopotutto la vita sedentaria proposta dal reality è una tentazione alla forchetta che rende spesso inevitabile laumento di peso. Nulla di irreparabile e soprattutto nulla di male, anche perché in un mondo spesso soggetto a modelli ultra e forse troppo longilinei, un po' di carne in più non guasta. . Fatto sta che a parlare del proprio peso forma perduto è stata la Delellis stessa, in una delle ultime Instagram stories postate sul suo profilo. . A farle compagnia durante l'annuncio c'era anche il suo love, Andrea Damante. . Andiamo a scoprire tutto. . . . Scusate se non sono più carina e presentabile, le parole di Giulia Delellis. . . Comunque esordisce Giulia sul proprio profilo Instagram Vi volevo dire che da quando sono entrata al grande fratello avrò preso non so quanti chili e non riesco più a perderli. La ragazza Capitolina poi aggiunge, scusate quindi se non sono più carina e presentabile nelle Instagram stories. . . La sua confessione è arrivata mentre al suo fianco c'era Damante che è stato chiamato in causa dalla stessa fidanzata, lui dice che sono meravigliosa, stupenda anche se dovessi prendere 30 chili. . . . Andrea a questo punto le ha fatto eco, ridendo affettuosamente e ribadendo che l'amore per lei non è certo condizionato dal suo peso. . . Nonostante qualche chiletto in più e nonostante l'ammissione, Giulia è comunque giustamente serena, visto che ha pure confessato che, in barba all'ingrassamento, s'è divorata come se non ci fosse un domani del tiramisù. . 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